Passate le amministrative, resta il tormentone capoluogo. La maggioranza Foti va verso il bilancio sempre più in ordine sparso. In pochi ieri hanno preso parte al vertice che doveva servire a discutere i conti. Molti credono che neppure l'incontro fissato per giovedì con il direttorio dei quattro e la segretaria regionale PD Tartaglione alle prese col caso Napoli produrrà chissà quali effetti. Un dato è certo, accanto ai dissidenti dichiarati si aggiungono nuovi mal di pancia. Montanile e Ambrosone minacciano dimissioni, i responsabili vicini al sindaco Foti si dividono sull'ipotesi di andare avanti comunque o staccare la spina. In queste ore si consultano pure avvocati di chiara fama per capire se il voto contrario al bilancio possa o meno impedire future ricandidature. La risposta è sì, se il commissario dovesse dichiarare il dissesto e fossero individuati gli irresponsabili che negli anni lo hanno provocato in realtà è remota l'ipotesi che ciò accada. Foti chiedeva segnali di vita al PD. Il PD ha dimostrato di non esistere come partito e poiché un anno è ancora lungo da passare in attesa del congresso è soltanto lui, il sindaco alla fine dei conti che dovrà disegnare la strategia avanti tutta o tutti a casa. Grazie.